Cartucce da salve calibro 9, 9 mm, 50 pezzi contenuti in una scatola, con apposito astuccio in materiale plastico interno. Alla sua base ha un fondello dove il percussore va a battere, da questa parte occlusa, questa parte non si muove, non esce niente, ma quando detona si apre, si rompe. Interamente in materiale metallico, similare molto a quella vera, fa un botto di pari entità e forma.